Ci stiamo trascondendo tra le frastaglie, tra tutte queste schifezze che sono qua a terra perché la vigilanza ci sta trovando, ci sta inseguendo con la mattina e non potremo stare qui perché qui è zona riservata, è zona VIP Ma io posso dire? Ma io sono un VIP, io posso essere Anche io sono un VIP Sono Luca Sil Onestamente E io sono Federica Silv Federica Silv e Luca Sil Questa è mia madre La vigilanza Cosa mi diciamo? Ma noi siamo sbarriti, siamo perduti, siamo perduti Facciamo afferrare una Sta qua sopra, sta qua sopra Si affaccia Si affaccia e ci urla Bene Vigilanza qua sopra Dobbiamo stare calma, rilassiamoci Ci stanno guardando, ci stanno guardando Ci stanno guardando? No, sì Ok Ci stanno guardando Non mi parliamo successivamente, ciao Una camera di quella, carina, vorrei stare là qui La suite Carina? Esatto, cosa ha detto? Ma noi lo sai che potevamo fare? Prendere, fare una fotografia sul campo dove hanno giocato i calciatori con quella bottiglina E la spacciavamo per una bottiglina che ha bevuto Amsic, va? No, l'ha ristata E poi l'ho ristata L'ho ristata E poi la faccia nella macchina E poi Queste sono le pietre peziose Le pietre peziose Le sette pietre Questo è il potere delle sette pietre Mi pare proprio io, fammi un po' in piscina No, non ho qualcosa Lo voglio pure io o qualcosa? Ma qua non ho mangiato No, là, là sotto, guarda Ma no, là Sì, abbiamo sentito il sudore dei calciatori Uè, Mary